carissimi per la serie con che cazzo spariamo oggi vi ho portato due fucili in calibro 12 alla mia destra un fucile che non ha bisogno di presentazioni un'icona dei film anni 80 90 il famosissimo spas 12 franchi alla mia sinistra un altro fucile in calibro 12 che non ha bisogno di presentazione un benelli m3 la caratteristica che li accomuna è il funzionamento bimodale cioè funzionano entrambi sia pompa che in semi automatico il franchi funziona con un sistema di presa di gas mentre il benelli funziona con un sistema inerziale molto più semplice grazie a tutti per concludere due armi che sono particolari questa è di un'ignoranza nucleare difficile da gestire pesante brutta da sembrare fino bella è un'icona della cinematografia però è veramente pesante da utilizzare non è certamente facile complessa da smontare da tenere pulita la uso pochissimo proprio perché è veramente difficile da utilizzare difficilissimo trovare i pezzi di ricambio che sono ormai reperibili soltanto sul mercato usa e quindi difficili da potersi far mandare questo è un benelli e non bisogna dire altro funziona spettacolare infatti lo tengo come una reliquia perché è un'arma spettacolare da utilizzare da gestire è un benelli insomma ragazzi alla prossima grazie a tutti